Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, anche oggi un notiziario pieno di cronaca nera, tra poco ci collegheremo con Tombolo, con Valentina Visentin per gli sviluppi dell'inchiesta sull'uccisione di una donna che è stata strangolata dal compagno tunisino. Poi un tentativo di rapina in un centro benessere di zero branco, un uomo messo in fuga da una dipendente che ha urlato e quindi il colpo non è riuscito. Andremo anche a Verona dove sono in corso gli stati generali dei sindaci, in diretta con Lucio Zanatto sentiremo Mario Conte e da altri primi cittadini, soprattutto sulla questione dei migranti. Ma iniziamo dalla cronaca, c'era stata come ricorderete una brutale aggressione ai danni di un dirigente nel cantiere TAV a Montebello Vicentino, avvenne il 2 maggio scorso, fu picchiato con una mazza da baseball, oggi sono state eseguite tre ordinanze di custodia cautelare in carcere. Sentiamo Luisa Bertini. Hanno stazionato per ore all'esterno del cantiere alta velocità fra Canzana di Montebello Vicentino a bordo di un suvo con il quale erano arrivati dalla Lombardia. Non appena il loro obiettivo ha lasciato l'area del cantiere attraversando il cancello di ingresso con la propria auto, i tre indagati gli hanno bloccato la strada. Sono scesi dall'auto col volto travisato e brandendo una mazza da baseball hanno aperto lo sportello dell'auto della vittima. Poi 20 secondi di brutale pestaggio, tutto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza ai danni del direttore tecnico della ditta Salcev, azienda impegnata nella progettazione dei cantieri della TAV in Veneto. Brutalità fermata dall'intervento di colleghi e operai che hanno evitato il peggio. Dopo l'estrema violenza i tre si sono poi allontanati dal cantiere facendo perdere le proprie tracce. L'uomo, 66enne di origini romane, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Arzignano e affidato alle cure dei sanitari che hanno riscontrato lesioni gravissime e dalle quali ad oggi ancora non risulta essere guarito. I fatti risalgono al 2 maggio. Di lì è partita la complessa attività di indagine. Oggi i carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del locale tribunale su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale Berico nei confronti dei tre di 45, 46 e 52 anni residenti nelle province di Milano e Monza-Brianza, tutti con precedenti penali. Uno dei tre arrestati, fra l'altro, era sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali e non avrebbe potuto lasciare il territorio della Lombardia. Le indagini proseguono per accertare l'esatto movente della spedizione punitiva. Tanto non facciamo che registrare altri incidenti stradali. Vediamo la prima pagina della tribuna di Treviso, un incidente che è accaduto questa notte. Si è schiantato contro un muro a Miane ed è morto e è avvenuto in via Cavallotti. La vittima di 46 anni abitava poco lontano. C'è stato un incidente mortale a Farra di Soligo ieri sera, poco prima del 21, a perdere la vita Michele David che con la sua Toyota Yaris è finito fuori strada schiantandosi contro un moretto mentre percorreva via Cavallotto, la strada che collega il centro abitato di Campea a quello di Col San Martino. Sul posto è giunta in breve tempo l'ambulanza assieme agli agenti della postrada di Vittorio Veneto e ai vigili del fuoco. C'è stato poco da fare per salvare la vita dell'automobilista che è morto sul colpo per le gravi lesioni riportate. Tra le cause che hanno provocato l'uscita autonoma di strada non si esclude il fatto che il manto stradale fosse bagnato e quindi reso viscido dalla leggera pioggia caduta nella zona proprio in serata e il tempo in effetti sta cambiando, sono previste piogge abbondanti durante il weekend. C'è stata una brutale aggressione, no scusate avevamo già dato, la morte di Edoardo Zattin. Le perizie dei consulenti concordano, è stato un pugno durante l'allenamento di box a causare l'emorregia cerebrale fatale per il diciottenne. Le tre perizie eseguite dai tecnici nominati dalla procura e dai genitori di Edoardo Zattin concordano. È stato un pugno alla testa durante l'allenamento di box nella palestra di Monselice a causare la morte dello studente diciottenne. Tutto risale il 22 febbraio scorso. Dopo la scuola Edoardo si reca in palestra dove è iniziato ad allenarsi da qualche tempo. Il pugno, causa dell'emorragia cerebrale che lo porterà alla morte, Edoardo lo avrebbe ricevuto intorno alle 19 e 15. I soccorsi in palestra sarebbero arrivati circa un'ora dopo. Un lasso di tempo su cui la famiglia di Edoardo chiede alla magistratura di fare chiarezza, così come sull'altro punto oscuro. Edoardo indossava o meno il caschetto di protezione. Su questo le perizie tecniche non sono concordi. Quel che è certo è che una volta soccorso dai sanitari del suo M118, Edoardo è stato trasportato a Padova dove i medici della neurochirurgia hanno tentato un disperato intervento che non è riuscito purtroppo a salvargli la vita. Edoardo Zattin è morto il 24 febbraio dopo 48 ore di agonia. Le relazioni agli atti dell'indagine della procura porteranno a nuovi interrogatori. Saranno infatti da verificare le dichiarazioni rilasciate dai testimoni a febbraio che alla luce di quanto emerso appaiono contrastanti. Vediamo la prima pagina della Nuova Venezia. Un quadro di Tiepolo ritrovato nel sottotetto di un industriale veneto in bancarotta a valore di 150 mila euro. La tela di piccole dimensioni stava filendo all'asta ma il Ministero della Cultura ha esercitato la prelazione. Questo è il quadro ritrovato dai carabinieri. Oltre 200 persone controllate, 11 delle quali segnalate perché in possesso di stupefacenti, ascis, cocaina e marijuana, sequestri di sostanze, oltre 700 euro in contanti, probabile provento dello spaccio, più controlli alle attività commerciali. E' questo l'esito dei controlli della Guardia di Finanza di Venezia nella zona del quartiere Piave di Mestre con l'impiego di oltre 80 uomini, soprattutto in orario serale e notturne. I controlli sono stati incentrati nella zona della stazione ferroviaria con l'ausilio di tre unità cinofile del gruppo di Tessera e un elicottero della sezione aerea di Venezia. L'attività di Polizia Economica e Finanziaria ha interessato 12 esercenti tra ristoranti, mini market, bar e strutture ricettive, con la contestazione di violazioni amministrative per oltre 50 mila euro. 8 lavoratori impiegati in nero e irregolari e il sequestro di oltre 1.500 articoli non conformi alle disposizioni del codice del consumo. Vi dicevo che tra poco ci collegheremo con Valentina Visentini per sentire gli ultimi particolari dell'inchiesta sull'uccisione della donna soffocata a tombolo del Padovano dal compagno tunisino. Ma c'è un altro femminicidio che ha scosso tutto il Veneto e in particolare la marca perché è quello dell'ex infermiera del San Camillo che è stata uccisa in Spagna. Si attende il rientro della Salma in Italia. Vediamo il servizio di Anna Di Roberto. Alla Comas di Castagnole, azienda in cui da dicembre lavora Emmanuel, l'unico figlio di Nicoletta Buliga, l'infermiera 51enne massacrata dal compagno che aveva raggiunto a Castellon della Playa, poi suicida, parlano di situazione estremamente delicata. Nessun'altra notizia trapella dall'azienda trevigiana che in queste ore sta mantenendo i contatti con il giovane. Difficile sì perché della morte di Nicoletta l'ambasciata italiana non era ancora stata avvisata. La donna, seppur trevigiana d'adozione, è di nazionalità rumena. Questo sta rendendo molto più difficile la diffusione delle notizie sull'autopsia, sul corpo della donna che dovrà essere effettuata e sui tempi previsti per il rientro della Salma. Ad intervenire è sollecitato proprio dal territorio l'ex presidente della Commissione Estri di Montecitorio che è in contatto con l'ambasciata italiana in Spagna. Le autorità spagnole non avevano di fronte a quella ricenda così tragica, non avevano informato le autorità diplomatiche italiane. Forse hanno informato le autorità diplomatiche rumene. In ogni caso, adesso ambasciate Consolato si stanno interessando al caso e allo Stato non ho ancora notizie nuove. Speriamo che il loro intervento possa facilitare il trasferimento della Salma in Italia. La solidarietà alla famiglia Lupo corre in queste ore sui social. Al post della sindaca di Casillon della Playa faccio appello a tutte le donne che sentono una situazione a rischio di denunciare. Si legge oggi ha fatto seguito quello di Maria Tormo Casanna, sindaco di Almasora, città in cui Nicoletta aveva trovato da poco occupazione nella casa municipale per la terza età, Vincente Villar Moreia, che ha decretato tre giorni di lutto cittadino. Nicoletta non può essere né un nome né un numero, si legge, di una tragica lista che come società non possiamo più accettare. Servizio di Anna Di Roberto. Andiamo subito in diretta a Tombolo da Valentina Visentin per un aggiornamento sull'altro femminicidio, quello di una donna soffocata con un cuscino dal compagno. Dopo una lite a te e la linea, Valentina. Buongiorno direttore, ci troviamo proprio davanti all'ingresso dell'appartamento dove ieri si è consumato l'ennesimo femminicidio. In questa zona ieri transennata c'erano i carabinieri per i rilievi, sono rimasti fino a tarda sera, il corpo è stato portato fuori solo quando è calata la notte qui a Tombolo. Il medico legale è rimasto a lungo all'interno dell'abitazione per raccogliere tutte le prove e anche esaminare il corpo di Liliana Coita, la 56enne romena vittima, soffocata con un cuscino dal convivente marocchino, 49enne. Ieri si parlava di tunisino, invece è stato confermato che si tratta di un marocchino. Lui si è presentato in caserma dei carabinieri e ha detto ho ucciso la mia compagna, ma i familiari di Liliana non erano a conoscenza di questa relazione. L'appartamento è quello dove adesso vedete i balconi chiusi, i balconi verdi chiusi, da lì ieri si vedevano i flash del medico legale e dei rilievi dei carabinieri che appunto dicevamo hanno esaminato a lungo l'abitazione, ma è confermato che Liliana è stata uccisa con un cuscino schiacciato ripetutamente sul volto. Ma ricostruiamo la cronaca di quanto è accaduto nel nostro servizio. Il servizio ha lanciato il servizio a Valentina Visentini, vediamo la cronaca del femminicidio. Ho ucciso la mia compagna, sono le prime parole pronunciate davanti ai carabinieri di Tombolo da Yousef Maid, 49enne marocchino, reo confesso dell'omicidio di Liliana Coita, la 56enne romena trovata morta in un appartamento nel pieno centro del piccolo comune di Tombolo. Lo straniero si è presentato in caserma ieri verso le 13, ha atteso il suo turno e poi ha pronunciato la frase che ha fatto scattare l'emergenza. I militari si sono fatti dire l'indirizzo via Vittorio Veneto 9 all'interno di una stanza il corpo senza vita della donna soffocata con un cuscino. Nessuna traccia di sangue, il delitto al culmine di una lite pare sulle condizioni di pulizia della casa. Alcuni residenti dicono di aver sentito la sera prima delle urla con un accento straniero, dammi il telefono. All'interno dell'appartamento, oltre alla 56enne romena e al suo assassino, vivono anche un operaio siciliano che risulta residente e una donna cinese che fa la lavapiatti nel vicino ristorante. Loro non erano in casa al momento del delitto. Sul posto il medico legale non ha riscontrato altri segni di violenza oltre a quelli tipici del soffocamento. Il 49enne marocchino, regolare in Italia, lavorava per un'azienda artigianale di Bassano del Grappa ed era già noto alle forze dell'ordine. Oltre alla confessione non ha riferito altri particolari al pubblico ministero Roberto D'Angelo che in tarda serata l'ha sentito. È in uno stato di non serenità, è disperato, hanno riferito. Via Vittorio Veneto ieri pomeriggio è stata transennata fino a sera presidiata dai carabinieri. Il paese è sotto shock. In molti hanno assistito, al di là delle transenne e alle operazioni degli inquirenti, in primis il sindaco Cristian Andretta. Non è che siamo preparati a questo tipo di eventi, questo ci fa riportare l'attenzione sul tema sociale, del disagio che c'è all'interno delle famiglie e soprattutto alla violenza sulle donne perché ne sentiamo parlare molto in maniera puntuale in questi periodi, è uno dietro l'altro e purtroppo si è abituati a vederlo da lontano e invece ha toccato anche noi e la comunità è profondamente scossa da questo punto di vista. Si tratta del primo delitto a tombolo dopo 60 anni, questo ci ha detto ieri il sindaco Cristian Andretta che è arrivato qui e anche lui ha seguito a lungo le operazioni dei carabinieri. Il 49enne marocchino è indagato per omicidio volontario, non ha aggiunto tanti altri dettagli su quanto è accaduto e questa abitazione ospitava quattro persone, un'abitazione che come si può vedere è in centro paese ma all'interno le quattro persone erano per lo più sconosciute, anche la stessa Liliana che viveva qui già da un anno. Ma ricostruiamo chi era Liliana nel nostro servizio. Liliana Coita viveva in quell'appartamento dove ha trovato la morte da circa un anno dall'ottobre del 2022. La donna però era in Italia, dal 1999 era rientrata per un periodo nel suo paese d'origine, la Romania, ma poi per stare vicino alla sorella che vive a Donara aveva deciso di tornare nel Padovano a Tombolo. Una professione saltuaria, pare come badante, in quell'appartamento risultava residente così come un operaio siciliano. Gli altri due invece erano ospiti, una cameriera cinese e il marocchino Yusef Maid, il 49enne che ha confessato di averla uccisa soffocandola con un cuscino. L'uomo ha detto ai carabinieri di essere il suo compagno, ma i familiari di Liliana, la sorella e anche il nipote, non erano a conoscenza di questa relazione e hanno definito lo straniero un semplice coinquilino. L'appartamento di via Vittorio Veneto in cui si è consumato il delitto è in pieno centro a Tombolo, ma nel piccolo comune dell'Alta Padovana nessuno sembrava conoscere la donna dal volto gentile. Poche informazioni su quella signora che si vedeva così di rado. Pare che ultimamente avesse avuto dei problemi di salute. La sorella la aiutava perché la 56enne non riusciva più a lavorare come badante. Un paese non abituato alla cronaca nera, quello di Tombolo, ma è noto perché ha dato i Natali a Ennio Doris, il famoso banchiere anche di Silvio Berlusconi, il lidatore di Mediolanum, che in quel locale ai mediatori era solito venire quando ritornava qui nel suo paese d'origine. Quindi Tombolo è una comunità sotto shock perché non era abituata a questi fatti di cronaca nera e infatti ieri veramente tanti cittadini erano qui per cercare di capire quanto era accaduto. Diciamo che gli ultimi aggiornamenti sono che appunto il compa, il 49enne marocchino, è in stato di fermo e ci sarà molto probabilmente entro 48 ore l'interrogatorio di convalida del fermo. Da Tombolo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Valentina Visentini e a Francesca Pezzo in diretta da Tombolo. Ieri sera Focus ha un titolo della puntata, il Veneto funestato da ladri e assassini. Sentiamo cosa ha detto proprio sui femminicidi, su quello che fa scattare la violenza negli uomini, cosa ha detto lo psicologo e psicoterapeuta Mirko Casteller. I dati sono veramente importanti, probabilmente non li abbiamo mai visti in provincia di Treviso, in Veneto, ma direi anche in qualche altra regione d'Italia. Insomma noi eravamo abituati ad avere le regioni del sud come le regioni pericolose, però ho la sensazione che anche la nostra stia avendo delle difficoltà. Il tema è un tema di senso, un senso della propria vita e della vita degli altri. Il maschio non sta avendo dei comportamenti molto diversi rispetto agli altri periodi storici. È che oggi la società essendo cambiata dà più opportunità alla donna e quindi ridimensiona la sua capacità di controllo nei confronti di quello che era definito in passato sesso debole e di vincolo verso quella parte della società. Il possesso come bene strumentale della propria relazione sociale è sempre stato un retaggio storico presente nella società italiana come in altre società. La perdita di quel controllo, ovviamente esiste anche un'incidenza delle varie etnie, delle varie culture dove il vincolo verso la donna è maggiore, porta a delle reazioni prima aggressive verso se stesso. Nel senso che l'atteggiamento della frustrazione e della mancanza di relazione con l'altro, spesso nelle coppie, scatena poi delle forme aggressive che noi vediamo, che sono importanti e imponenti. Però partono, partono, oggi è trasversale, non so, è solo tra uomo e donna. Vediamo i giovani che cosa sta succedendo. Allora, questo era Mirko Casteller ieri sera a Focus. Adesso andiamo in diretta da Cristian Arboita a Zero Branco perché un uomo ha tentato una rapina in un centro benessere ma è stato messo in fuga da una dipendente. A te la linea Cristian. Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Siamo all'esterno del centro massaggi che ieri sera verso le 22 è stato teatro di questa tentata rapina. Sono stati attimi concitatissimi e mi sento di dire che solo per un soffio non c'è stato qualcosa di più, qualcosa di peggio. perché sentirai fra pochissimo le parole di Monica, la titolare cinese che ci ha raccontato, anche mimandoci per problemi di linguaggio, quei momenti. Quest'uomo si è presentato alla porta, ha suonato e la donna se lo è ritrovato davanti con un passamontagna. è stata minacciata con un coltello di circa 30 centimetri. Ma se sei d'accordo, e poi abbiamo anche altri ospiti, partiamo proprio dal racconto di Monica. Eccolo. Lei ha visto quest'uomo, aveva cosa, un passamontagna, una mascherina? No, solo due occhi. Solo due occhi, quindi qui era coperto? No, come qua. Cabello qua, tutti i cabello, solo due occhi. Ah, quindi un passamontagna, si chiama così? Sì. Sì. Quindi lo ha visto, ha suonato, ha suonato e ha visto quest'uomo con il passamontagna. Sì, sì, sì. E cosa le ha detto quest'uomo? Ah, qua dentro, subito qua, cattare qua, là qua, qua, lungo. Aveva un coltello, un coltello lungo? Lungo, lungo. Quanto lungo? Come così. Ma quindi quest'uomo poi è entrato, quindi? Ah, no, come qua, fuori, come io, suonato così, aiuto. Tu, sempre qua, mano, come così, così, come mano. Qua, come mano, così, così. Io, prima, tu, no, io, no, io, solo così, aiuto. Tu, sempre, come io, mano, così. Come uno, mano, così, uno, mano, così, come solo di, subito, solo di, solo di. Io, no, io, andiamo, tu, come io, mano, come così. Qua, nasce qua. Come io, casa. Io, subito, tu, come mano, no, io, mano, io, subito uscire da fuori. Aiuto. Quindi, lei è riuscita, l'uomo è entrato, è entrato, l'ha presa per la mano, quindi, l'ha trascinata, l'ha trascinata qui per l'incasso, ma lei è riuscita a sfuggire. Quindi, lei è riuscita a uscire. Lei, come tu, qua, solo di, io, come vuoi dire, io, subito fuori uscita. Aiuto, aiuto. Qua, cliente, qua, ci lato, tanti, centine, cliente. Io, aiuto, aiuto. Quindi, sono a corsi, clienti qua del bar? Tanti, tanto. Ecco, questa è la testimonianza di Monica. Quindi, adesso la porta è aperta. Monica è all'interno, ma non se la sente più di parlare. È abbastanza scossa. Questo è il bar di cui parlava il direttore Monica. È da qui che sono arrivati i soccorsi, i primi soccorsi, l'aiuto degli avventori, in particolare l'aiuto di Fabio Chin. Buongiorno, Fabio. Lei è titolare di questo bar con i figli. E cos'è successo ieri sera? Ieri sera avevamo sentito gridare la signora qui, le signore che lavorano qua. Siamo usciti un attimo, il mio figlio è uscito subito e ha chiesto se saranno problemi. Io da qua sono corso lì sulla strada per vedere cosa è successo. I ragazzi che erano lì seduti mi hanno detto guarda che c'è stato problemi. Ho visto uno che scappava con qualcosa in mano. Più di più non lo so. Ho visto scappare verso la zona degli alpini, quella nuova. Da lì abbiamo chiesto se c'era bisogno di aiuto o altro. E automaticamente è successo che ho chiamato subito i carabinieri, perché non sapendo parlare italiano, quello che abbiamo aiutato, sono intervenuti subito le forze dell'ordine. Quindi abbiamo cercato di capire cosa era successo, cosa non era successo, più che altro per l'incolumità dei miei clienti che c'era qua. Quindi quello che è importante sottolineare, direttore, è che gli avventori, che lo stesso Fabio Chin, si sono messi subito in aiuto sostanzialmente di questa donna. Sono ragazzi, sono gente che lavora. A quell'orario là è un po' strano. Però abbiamo visto questo piccolo casino, poi abbiamo visto che avessi sforzato la porta, il tipo è scappato e altro. Questo l'ho visto io di più. Quello che ho detto a voi, ho detto anche ai carabinieri, di più non posso dirti. Era un tipo travisato, aveva il cappuccio in testa, felpa nera, un paio di pantaloni neri. Di più non l'ho visto. Ho saltato qui la prima muretta e poi ho cominciato a correre verso la zona di là. Ecco, questo abbiamo visto. E di leguato, diciamo così. Assolutamente, subito, velocemente. Sì, ci sono i lampioni, però è una zona un po' buia. Dice mezza di sera, non è che ci sia casino. Poi, più anche pioveva, la serata è abbastanza strana, anomala, come serata. E tutto quello che ho visto abbiamo fatto io, aiutando chi c'era. Fabio Chin, grazie davvero per questa testimonianza. Direttore, questo il quadro, questa la cronaca di una serata ad alta tensione qui in via Montepiana a Zero Branco. Tra l'altro Zero Branco è che tra i comuni in Italia, non solo in Veneto, con il maggior numero di telecamere. Ce ne sono tante in questa zona, quindi probabilmente potranno venire in aiuto ai carabinieri. Per il momento è tutto. Ti restituisco la linea con Nicoletta Rizzetto. Grazie molto, grazie Cristian, grazie Nicoletta. Restiamo sul versante della violenza. Anche questo fatto si può scrivere nel campo della violenza contro le donne, perché la vittima ha rischiato, la signora cinese che ha parlato, ha raccontato cosa ha fatto, come si è difesa, e tra l'altro ha messo in fuga questo malvivente. Ma i dati della violenza contro le donne sono in crescita esponenziale, a Treviso ci sono iniziative, tra questa e quella del Comune. Stiamo monitorando il dato che è emerso dal 2022 al 2023, ne abbiamo anche già parlato con la Regione del Veneto e ci stiamo confrontando noi all'interno della provincia. Solo nei primi otto mesi del 2022 avevamo accolto in pronta accoglienza, quindi con una risposta immediata a 35 donne, e quest'anno ne abbiamo già 70. Sono tante. Donne vittime di violenza, i dati di Treviso sono l'emblema di un fenomeno che allarma sempre più e che ha portato il Comune ad avviare una campagna di informazione e sensibilizzazione. Il progetto si chiama Stop Violence, una raccolta fondi che vede al centro un'opera dello street artist trevigiano, Manuel Giacometti. Il ricavato verrà utilizzato per sostenere il centro antiviolenza e di informare le donne vittime di violenza. Una campagna che vogliamo e abbiamo voluto multilingue in modo da poter arrivare davvero a tutte le donne da diffondere attraverso tutta la rete non solo del Comune di Treviso perché la metteremo a disposizione dell'intera provincia. Il lavoro che si sta facendo contro la violenza di genere è tanto e su più fronti ed i dati in crescita possono anche essere letti come una maggiore emersione del fenomeno. Noi non crediamo che ci sia un aggravamento quanto un fatto invece positivo da un lato che le donne hanno più canali e effettivamente dicono basta e quindi segnalano e i dati cominciano ad emergere. Tante e diverse le storie delle donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza molte accomunate da un'evoluzione comune. La violenza non inizia subito da una violenza conclamata fisica ma molto spesso viene anticipata da tutta una serie di atteggiamenti e di comportamenti dell'uomo che vanno a limitare la capacità di movimento della donna è isolarla. Quindi la violenza psicologica sicuramente è sempre presente in tutte queste situazioni. La violenza fisica arriva dopo e il fattore di svolta che poi porta le donne a chiedere aiuto è sicuramente il tema della paura per la propria incolumità e per l'incolumità soprattutto dei loro bambini. E come se non bastasse abbiamo anche a che fare con i matti che hanno i problemi evidentemente mentali che picchiano le persone per la strada. In questo caso addirittura c'è un picchiatore seriale a cui si sta dando la caccia vediamo il titolo del gazzettino che sceglie le vittime a caso le aggredisce nella notte e sempre nel solito posto. Sentiamo subito in diretta Filippo Fois A te la linea Filippo Sì, buongiorno direttore buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta è il solito posto è l'area vicino a Piazzale Roma si tratti di un autobus in arrivo qui a Venezia si tratti della fondamenta dalla quale si prendono i vaporetti che poi arrivano un po' in tutta la laguna si tratti anche della fondamenta della stazione Santa Lucia che si trova qui vicino. Io ho al mio fianco il presidente della Municipalità di Favaro Veneto Marco Bellato perché questo giovane autore di queste aggressioni è residente a Favaro Veneto Marco Bellato sta seguendo con molta attenzione la vicenda ha sentito anche di poco fa proprio le forze dell'ordine di chi si tratta? Sì, buongiorno ai telespettatori buongiorno direttore si tratta di un ragazzo di origine straniera il quale ha dei problemi psichici è in cura al CSM di Favaro il problema è stato subito attenzionato le forze dell'ordine le quali si stanno muovendo per cercare di prevenire che vengano fatti degli atti più gravi rispetto a quelli che sono stati posti in essere fino ad oggi che sicuramente vanno condannati sono atti deplorevoli però sono atti che sono stati fatti da parte di un soggetto che ha dei problemi psichici anche gravi e quindi si sta cercando anche il sistema per studiare un reinserimento sociale per il ragazzo e quindi sì si sta interessando vari soggetti esseri sociali il centro di salute mentale perché è evidente che fino adesso non è successo nulla di grave però la situazione potrebbe potrebbe rivelarci anche più grave di quella che è dunque è giusto prevenire piuttosto che curare e di conseguenza ringrazio le forze dell'ordine per l'importante lavoro che stanno facendo adesso all'interno del nostro territorio per cercare di mettere in sicurezza questa situazione ma cercare anche di mettere in sicurezza il ragazzo affinché non compia più questi atti e insomma venga curato perché deve essere curato ribadisco si tratta di una persona che ha gravi problemi psichici è preso in cura dal CSM dunque speriamo che attraverso questo interessamento da parte di vari soggetti assistiti sociali CSM e forze giudiziarie la situazione venga risolta più presto e quindi rientri tutto in sicurezza ecco quindi che i nostri concittadini e chiunque viene a visitare Venezia possa stare tranquillo di non essere aggredito ho letto anche che purtroppo aveva due coltelli è evidente che questo testa ancora più preoccupazione e quindi è meglio ripeto prevenire piuttosto che curare e risolvere questa questione quanto prima di modo che tutti possiamo venire a Venezia e stare in sicurezza allora questa è la buona notizia mi verrebbe da dire cioè non c'è non c'è un mistero sappiamo chi è questa persona con nome e cognome ci sono le forze dell'ordine ci sono i servizi sociali la brutta notizia forse e siamo buoni a Piazzale Roma che è il posto più indicato per chiamarle che a volte è lo Stato e lo chiedo a Marco Bellato che è anche avvocato sembra molto in ritardo nel prendere i provvedimenti necessari qui a Piazzale Roma c'è il caso del Colosciar Pasquale Aita il quale si trova qui da sei o sette anni credo abbia 80-90 denunce un numero imprecisato di Dasco e di Fogli di Via l'altro giorno ha aggredito cinque consiglieri regionali eppure rimane ancora lì perché succedono queste cose Bellato? ma questa mattina a fatalità ero proprio con dei colleghi che sanno che io abito a Favaro e mi riferivano appunto del fatto che c'era anche il problema di questo Colosciar di Pasquale Aita e eravamo tutti abbastanza stupiti che non riuscissimo a risolvere questo problema che si protrae da anni e ci siamo detti come mai non riusciamo a risolverlo perché evidentemente le normative che ci sono andrebbero ritoccate andrebbe studiato un sistema probabilmente più efficace anche per risolvere questi problemi perché è vero che se da un lato probabilmente non provocano le conseguenze gravi è anche vero che comunque sono dei comportamenti molesti e penso a tutti quei politici ma a tutte quelle persone che sono state aggredite come diceva giustamente lei dal Colosciar Pasquale Aita e questo è ancora qui stranamente questa mattina non c'è ma di solito c'è anche io frequento Pazziale Roma e c'è tutte le mattine e devo dire che effettivamente bisogna intervenire ma con una riforma seria della giustizia che consenta a queste persone soprattutto di effettuare un percorso di reinserimento sociale che purtroppo mi sento di dire ad oggi seppure il sistema giudiziario mette al centro la persona e cerca comunque attraverso penso all'istituto della messa alla prova piuttosto che i lavori di pubblica utilità per il reinserimento sociale perché la pena deve avere comunque una funzione rieducativa purtroppo queste situazioni si protraggono e non si capisce perché evidentemente bisogna intervenire con una riforma che sia efficace e che sia pronta per risolvere anche queste situazioni c'è stata la riforma cartavia sinceramente con gli altri colleghi avvocati stiamo ancora capendo come muoverci perché ha stabilito delle cose a livello di procedura però pare che non sia ancora talmente efficace tale per cui i colpevoli vengono assicurati alla giustizia ma anche ci sia una giustizia veloce come si diceva confideremo nel ministro Nordio che tra l'altro era in servizio proprio qui nella procura di Venezia che faccia le riforme perché il sistema giudiziario le pene e le leggi siano più efficaci però soprattutto mi sento dire e questo forse esonera un po' dalla materia che stiamo trattando questa mattina che ci venga inviato più personale per smaltire il lavoro che c'è qui nelle procure e nei tribunali perché sono veramente oberati e coloro che sono e che lavorano i giudici e i cancellieri tutti veramente sono degli mi passo il termine degli eroi perché si sobbarcano una mole di lavoro che è sicuramente superiore rispetto alle risorse di cui disponiamo cioè siamo sicuramente sotto organico quindi è evidente che c'è bisogno prima di questo comunque la riforma più efficace si sta parlando molto dell'abuso d'ufficio sì l'abuso d'ufficio è un tema su cui intervenire però credo che sia da intervenire più sul rigore della pena per garantire anche a soggetti come questi un reinserimento sociale che sia sicuro che consenta a tutti i cittadini di vivere in sicurezza ecco grazie naturalmente ci sono le grandi riforme però ci sono anche quelle piccole riforme apparentemente che però consentono alla gente di vivere in maniera più serena questo è un caso lampante questo ragazzo che ha dei problemi evidenti e dovrebbe essere preso in carico volevo dire al direttore è il momento dei fatti e non più delle parole quindi sono anni che sentiamo parlare di queste cose direttore è giusto che ci siano i fatti e che possiamo veramente toccare con mano che la giustizia abbia delle pene certe insomma che ci sia un certo vigore e che ci siano dei procedimenti di inserimento sociale che siano veramente ecco Filippo grazie si sa chi è questo ragazzo che appunto fa il picchiatore seriale sceglie le vittime a caso e pare che colpisca sempre nello stesso posto io mi chiedo è così difficile oltre ad identificarlo fermarlo? voglio dire è mai possibile che possa comunque tornare a colpire quando gli pare? questa è una domanda che secondo me si pongono in molti qui a Venezia anche perché quest'estate noi avevamo dato più volte notizia di risse anche molto violente con degli accoltellati gravi che si erano verificate proprio qui in piazzale Roma coloro che lavorano qui la notte come può essere la cooperativa dei portabagagli o quella dei tassisti hanno chiesto più volte un presidio fisso delle forze dell'ordine così come lo chiedono in via Piave a Mestre peraltro per problemi di spaccio evidentemente pare che non sia possibile c'è un presidio mobile lo chiamano vale a dire che passa una camionetta ogni 15 minuti però in effetti si diceva è sempre qui si sa chi agisce qua bisognerebbe diceva il direttore Baciale giustamente poterlo anche prevenire no? certo sono d'accordo il tema della sicurezza è un tema che oggi come oggi è importantissimo penso sia a piazzale Roma penso anche a Mestre dove sono interessati sicuramente più soggetti penso al ministero dell'interno a tutte le forze dell'ordine alla polizia ai carabinieri in parte anche alla polizia locale del comune di Venezia e purtroppo è una vita è una società che non ci consente più di vivere in sicurezza e tutti siamo allarmati per quello che sta accadendo e quindi bisognerebbe sicuramente incentivare le forze dell'ordine d'altra parte era stato detto che chi avrebbe vinto le elezioni avrebbe incentivato l'assunzione di poliziotti carabinieri e quant'altro quindi speriamo che dalle intenzioni conseguano i fatti e che quindi ci siano più poliziotti più carabinieri che li vediamo girare in giro così siamo anche più sicuri anche la gente vedendoli sicuramente si all'è direttore no volevo dirti siccome colpisce sempre nello stesso punto a quanto pare è possibile sapere qual è il luogo in cui colpisce così almeno diciamo alla gente di evitare quella zona perché voglio dire visto che colpisce sempre nello stesso punto dov'è sto punto? allora la zona è un pochino ampia per cui è difficile evitarla nel senso che si tratta di Piazzale Roma si tratta della fondamenta di Santa Chiara che è quella da cui si prendono i vaporetti che poi arrivano un po' in tutta la laguna e qualcosa è successo anche nella fondamenta Santa Lucia che è quella che si trova di fronte alla stazione ferroviaria cioè l'area è circoscritta però diciamo che si muove non è comunque un'area difficile da controllare comunque Filippo grazie molto e ti ringrazio e ringrazio il tuo ospite perché questo fa capire ancora una volta in che paese viviamo cioè noi stiamo per avere su tutto il territorio dei centri di rimpatrio con tante persone anche mentalmente non a posto che saranno in questi centri dai quali escono in genere tranquillamente vedremo se invece questa volta riusciranno a contenerli e non riusciamo a fermare in Piazzale Roma uno psicopatico che aggredisce le persone a caso e il barbone Pasquale Aita che ha persino aggredito dei consiglieri giornali lo so credo che si debba riflettere su questo a lungo intanto grazie grazie a Filippo Fois al suo ospito è stato rintracciato in Germania il 33enne marocchino per l'appunto senza fissa dimora responsabile di una rapina aggravata commessa a Padova nel gennaio 2020 ai danni del titolare di una gioielleria colpito al volto con una bottiglia di acido muriatico l'arresto è avvenuto a seguito di un'attività di ricerca avviata dalla squadra mobile di Padova e dal servizio per la cooperazione internazionale di polizia di Roma lo straniero ha avvicinato il gioielleri all'uscita del negozio intimandogli di consegnargli il denaro e mostrandogli una bottiglietta di plastica riportante un'etichetta con la dicitura acido muriatico gli ha gettato sugli occhi la sostanza corrosiva provocandogli delle lesioni e riuscendo così a strappargli il borsello il 33enne marocchino in precedenza era stato condannato per una tentata rapina in concorso e tentata lesione commessa a Bologna e noi parliamo di rimpatria questo era qui colpiva con l'acido muriatico ed è rimasto qui ed è probabilmente ed è probabilmente ancora qui sarà ancora qui perché dopo l'arresto verrà rimesso presto in libertà ha tentato di rubare andiamo avanti con la nera con la cronaca nera ha tentato di rubare la cassa del caffè Pedrocchi ma è stato arrestato è successo sull'Iston in pieno centro nello storico locale all'uomo già processato è stato imposto il divieto di demora a Padova vediamo intervento della polizia nello storico caffè Pedrocchi di Padova giunti sul posto gli agenti sentendo delle grida provenire dal retro del locale sono entrati e hanno trovato due dipendenti che si picchiavano con un cittadino straniero che continuava a mantenere un atteggiamento violento e aggressivo anche nei confronti dei poliziotti una volta bloccato l'uomo i due dipendenti del bar hanno raccontato agli agenti che poco prima lo straniero si era introdotto attraverso l'ingresso posteriore nella stanza del laboratorio e si era precipitato verso il lato principale del bar fino a raggiungere la cassa tentando di aprirla i due dipendenti erano riusciti a fermarlo ma ne nasceva una collutazione e uno dei due rimaneva ferito a un braccio l'uomo un trentenne della guinea già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato per tentata rapina impropria ed è risultato anche irregolare sul territorio nazionale in regia oggi a focus a TG Tony Esposito e Andrea Basso andiamo avanti con la cronaca c'è stata un'operazione dei carabinieri contro le rapine nel sale slot che sono sempre nel mirino dei criminali sono stati quattro provvedimenti cautelari sono state svuotate sale slot nel padovano e indagati tre trevigiani le indagini sono partite nel luglio del 2022 dopo una serie di rapine nelle sale slot e si sono concluse ora con misure cautelari per quattro persone i colpi a segno tra Padova Alta Padovana e Treviso gli arrestati tutti italiani di origine sinti residenti nella marca tra Paese Istrana e Vedelago le indagini prendono il via dopo due rapine a sale slot di Curtarolo e San Martino di Lupari Alta Padovana pochi giorni dopo viene ritrovata dai carabinieri un'auto rubata e data alle fiamme a San Zenone degli Ezzelini e certamente le attività del nucleo operativo di Cittadella e delle stazioni territorialmente competenti hanno portato a individuare un sodalizio criminale dedito alle rapine infatti ne riusciamo a contestare altre due avvenute poi successivamente intanto vanno a segno altri due colpi con modalità simili nel veronese e a rubano durante le complesse indagini tecniche i carabinieri si imbattono a Verona in un'auto che fugge a tutta velocità causando incidenti e un ferito nel corso delle indagini è stato anche appurato che erano dediti alla commissione di altri reati contro il patrimonio furti su autovetture in debito utilizzo di carte di credito nonché di furti di gasolio l'attività tecnica ha permesso insomma di collezionare una serie di elementi fortemente indizianti e precisi per cui insomma tramite la procura della Repubblica di Padova con il dottor Roberti siamo riusciti ad avere le emissioni di queste misure cautelari infine i provvedimenti della Repubblica di Padova già in carcere per altre vicende a un 35enne di paese agli arresti domiciliari un 44enne di strana e un 34enne di vedelago e obbligo di dimora per un 34enne di vedelago sono tutti italiani di origini sinti vivono in case o roulotte nei campi nomadi e ogni rapina avrebbe fruttato di media 5-6 mila euro continuano a arrivare in Veneto molti migranti gli ultimi sono stati ospitati in un'ex scuola di Mirano abbiamo raccontato ieri l'arrivo dei migranti con Anna Maria a Parisi ne parleremo ancora anche oggi ne parliamo sempre a focus la sera poi vedremo cosa è stato detto ieri sera dai nostri ospiti intanto sentiamo le parole del vescovo di Padova Monsignor Cipolla sulla questione migranti il vescovo di Padova ribadisce la posizione della diocesi è un tema che si trascina da anni non a soluzioni emergenziali sì a progetti a lungo termine quando lavoriamo di emergenza sollecitiamo le paure le preoccupazioni soluzioni che non sono adeguate dobbiamo arrivare ad avere un progetto per i migranti la diocesi è poi delusa per il tipo di strutture che vengono messe a disposizione i posti cominciano a scarseggiare spesso l'ospitalità non è giudicata dignitosa dalla curia noi siamo molto dispiaciuti nel vedere questo evolversi delle risposte in termini non dignitosi nei confronti di chi sta attraversando momenti difficili della propria vita e che noi consideriamo comunque come fratelli anche se non sono cristiani o se non sono italiani c'è una una fratellanza universale che ci deve legare attualmente la diocesi di Padova ospita 360 persone in strutture proprie che non sono in sofferenza perché rispettano il principio dell'accoglienza diffusa in strutture nostre dove in questo momento non ci sono problemi perché abbiamo scelto e ribadiamo l'accoglienza diffusa e se come si era immaginato ogni mille abitanti un comune di mille abitanti ospitasse tre profughi migranti non credo che sarebbe impossibile secondo Monsignor Cipolla suddividere gli arrivi in proporzione ai residenti dei comuni sarebbe un atto di carità e umanità servirebbe però il rinnovo dei finanziamenti per i centri di accoglienza provvisoria servizio di Federico Fusetti ne abbiamo parlato come vi dicevo ieri sera a Focus con i nostri ospiti sono arrivati quasi 2000 tra sms e whatsapp sentiamo cosa ha detto una parte dell'intervento di Giovanni Battista Mestrina Erle ex sindaco di Scorsese accogliamo tutti è un fenomeno migratorio mondiale ci sono milioni di persone in Africa che vogliono venire tutte qui e ci sono qua e c'è là e allora dobbiamo accogliere se no è colpa dell'Europa ma io dovrei capire ma qual è la politica che noi stiamo proponendo all'Europa perché anche noi facciamo parte dell'Europa qual è la politica che noi stiamo proponendo l'Europa come paese perché qui i governi i governi cambiano destra e sinistra eccetera ovviamente con tesi su questo problema molto diverse perché la sinistra ha una ben chiara impostazione dove si dice porte aperte centro-destra dice porte chiuse però il ragionamento adesso concreto è realizzare tutto questo e dire benissimo benissimo di fronte a questa situazione di fronte a questa situazione il nostro paese l'Italia o l'Europa se vogliamo ragionare quanti immigrati può fare entrare come li mantiene e per quanto tempo la risposta che mi pare evidente è avremmo bisogno di immigrati lavoratori in alcuni settori dell'economia ma gli ingressi che abbiamo adesso non ci consentono nemmeno di dire che queste persone che arrivano a Lampedusa saranno gli operai di domani nelle nostre fabbriche perché spesso succede che questi che arrivano a Lampedusa di lavorare voglia non ce l'hanno e allora nel momento in cui un paese come l'Italia o un continente come l'Europa perde il controllo dei flussi immigratori non è più il paese non è più l'Europa che decide chi arriva e chi ha diritto di arrivare e chi non ha diritto di arrivare deve stare a casa sua in questo momento noi stiamo perdendo l'effettiva capacità di governarci l'effettiva capacità di governarci e poi Vestrinera è andato giù ancora più pesante ha detto deve intervenire l'esercito in Libia e poi ha dimenticato la Tunisia ma insomma e lì c'è stato uno scontro con Antonella Tocchetto che ha parlato allora facciamo un protettorato in Libia ma cosa dici insomma solita solita rissa focus andiamo però subito adesso agli stati generali dell'Anci Veneta a Verona perché c'è Lucio Zannato con il presidente dell'Anci Veneta il sindaco di Treviso Mario Conte a te Lucio Buongiorno direttore buongiorno ai telespettatori di Rete Venda si sono appena terminati a qualche minuto i lavori questa mattinata qui alla Gran Guardia di Verona sono con il presidente di Anci Veneto ma soprattutto il sindaco di Treviso Mario Conte Presidente tiriamo un po' le somme di questa giornata tanti temi che avete toccato il primo tra tutti e anche l'ultimo mi pare di aver capito quello dell'immigrazione da una parte come gestire questo flusso che arriva dallo Stato che arriva attraverso i prefetti e d'altra parte come inserirlo nella denatalità di tanti comuni che noi abbiamo abbiamo sentito cosa era Merlare se non sbaglio che dice dovevamo cercare di fare in modo insomma di avere più gente perché qui la denatalità fa chiudere i comuni si è un tema complicato articolato e soprattutto che oggi non dipende dai comuni nel senso che noi subiamo quelle che sono delle scelte nazionali internazionali e per questo abbiamo chiesto per esempio attraverso il protocollo con la regione Veneto la costituzione di una cabina di regia che possa tener conto di quelle che sono le caratteristiche le esigenze le sensibilità dei territori affinché questa gestione migratoria non sia una penitenza ma possa anche in alcuni casi diventare un'opportunità non è semplice però ci servono strumenti e ci servono risorse diversamente i comuni e i sindaci rischiano di sentirsi abbandonati perché l'unica cosa di cui noi oggi possiamo parlare frutto di questo fenomeno migratorio sono tutte le criticità che si riversano nel territorio e i cittadini giustamente il primo ente a cui dovevano a lamentarsi è certamente il municipio e i sindaci a proposito di municipio e sindaci quando il presidente Zai ha detto a un certo punto perché qui un CPR verrà realizzato e attenzione in uno dei 563 comuni del Veneto arriverà quindi potrebbe essere anche il suo c'è stato un po' un brivido dei primi cittadini come rispondere a questa esigenza dello Stato? No il tema è quello delle modalità perché le imposizioni non piacciono a nessuno e il protocollo lo ripeto della regione andava proprio nella direzione di aprire un canale di dialogo per evitare situazioni come quelle di Cona di Bagnoli quindi se abbiamo aperto e costituito una cabina di regia nella prima fase di emergenza io non credo che lo strumento ideale per il CPR sia quello dell'imposizione anche perché se viene imposto non troverà mai il parere favorevole da parte di sindaci noi dobbiamo capire che caratteristiche che condizioni e chi verrà ospitato e quanto spazio hanno bisogno per capire qual è poi la soluzione migliore altro brivido con i fondi PNRR lei ha detto attenzione noi non siamo comuni dissestati abbiamo i conti a posto abbiamo tutti i compiti per casa però i soldi forse non arrivano e allora? La famosa frase giù le mani dai soldi veneti nel senso che per i comuni veneti abbiamo circa 500 progetti finanziati per un importo che supera gli 833 milioni di euro l'80% di questi progetti sono già in fase di cantiere rendicontazione e quindi voglio dire il 20% mancante è già in fase di progettazione esecutiva quindi noi abbiamo seguito le regole abbiamo inseguito le indicazioni abbiamo rispettato le caratteristiche che l'Unione Europea e il Governo ci hanno chiesto quindi se noi siamo stati virtuosi chiediamo semplicemente che i soldi che sono stati assegnati ai comuni veneti rimangano senza ma e senza se ai comuni veneti senta però una cosa va detta qui c'era la regione qui c'erano i comuni manca un interlocutore lo Stato perché poi tutte queste cose andate a dirle giù a Roma ma forse non era meglio che qualcuno da Roma fosse venuto qui a sentirla sì in realtà molti ministri hanno manifestato la loro volontà di essere presenti però purtroppo il consiglio dei ministri ha impedito loro la presenza ma non è questo è importante io li ringrazio comunque per la disponibilità anche perché da questi stati generali nascerà un documento tematico molto articolato e molto tecnico che verrà poi consegnato a tutti i livelli quindi dalla regione al governo fino all'Unione Europea perché l'obiettivo dei sindaci non è quello di lamentarsi ma è quello di costruire costruire delle iniziative amministrative migliori per il futuro che possano darci degli strumenti per servire al meglio le nostre comunità e se poi giù a Roma non vi ascoltano non ci ascoltano che facciamo andiamo sulle barricate ma insomma noi la voce la sappiamo anche alzare e essendo una sapendo fare squadra e massa critica insomma tutti i sindaci del Veneto che si muovono uniti è difficile non ascoltarli insomma marcia su Roma ma diciamo che noi ci ispiriamo al rugby no? la mischia spinge verso la meta e noi in meta ci arriviamo di sicuro e con questa diciamo così allegoria ti restituisco la linea direttore grazie molte Lucio Lucio Zanatto con il sindaco il presidente del Lanci Mario Conte sugli stati generali avete visto tra l'altro in platea c'erano Luca Zaia la vicepresidente De Berti poi c'erano gli assessori Corazzari anche Roberto Marcato e la presenza di Marcato insieme agli altri assessori è indicativa c'era il consigliere regionale Elisa Venturini quindi i sindaci ma anche tanti rappresentanti delle istituzioni del Veneto adesso vedremo una risposta di Nicola Finco vicepresidente del consiglio regionale ad un attacco dell'assessore all'ambiente alla protezione civile Giampaolo Bottacin che si è lamentato del fatto che Finco abbia parlato di una sua possibile uscita dalla Lega lo ha fatto con un paio di interviste oggi sui quotidiani locali sentiamo cosa ha risposto Finco pochi minuti fa Nicola Finco vicepresidente del consiglio regionale oggi sui giornali perché l'assessore Bottacin insomma l'ha un po' bacchettata per queste sue uscite e i richiami all'unità in un momento delicato sì io sono rimasto parecchio alibito da queste sue dichiarazioni in quanto io non ho mai attaccato nessuno anzi con l'assessore Bottacin c'è sempre stato un ottimo rapporto di amicizia di collaborazione visto che siamo colleghi da diversi anni ho solamente fatto un appello nei giorni scorsi proprio da questa emittente richiamando tutti quanti all'unità all'interno del partito nel lavorare unitamente insomma per il bene del nostro territorio ed evitare polemiche strumentali che fanno solamente il male all'interno del movimento e poi mi sono ovviamente trovato questa mattina con una serie di accuse o non posso definirle ingiurie ma insomma veramente sono rimasto senza parole nel leggere certe cose anche perché è stato accusato di remare contro la sanità del Veneto per le interrogazioni che aveva fatto sulla qualità dell'offerta sanitaria dell'U7 ma guardi io sono rappresentante regionale di questo territorio da circa 13 anni penso di essere sempre stato riconfermato perché sono una persona coerente che sa cogliere quelle che sono le necessità del territorio ma anche i bisogni e le emergenze e poi ovviamente tramutarle in atti politici per migliorare quella che è la situazione la sanità è uno dei punti dolenti io sono sempre stato uno a contatto con il territorio quindi tutte le rimostranze ci ricordiamo anche lo scorso anno più di 3.000 firme raccolte sul nostro territorio per denunciare determinati servizi e io in qualità di consiglio regionale ho fatto delle interrogazioni non contro la sanità ma per la sanità perché io voglio che la sanità del mio territorio torni ad essere la sanità che avevamo qualche anno fa e siccome a mio parere sono state fatte delle scelte organizzative sbagliate ho avuto il coraggio di dirlo di denunciarlo e di chiedere anche di chiarimenti a chi di dovere se questo dà fastidio a qualcuno mi dispiace però io sono una persona prima di tutto coerente con il mio elettorato una persona con la schiena dritta e sicuramente continuerò ad operare finché avrò il mandato dei cittadini per fare il bene del mio territorio torniamo in diretta da Cristian Arboit con Nicoletta Rizzetto perché si sono spostati da Zero Branco a Quinto di Treviso dopo la segnalazione della presenza di un uomo nudo nel cimitero a te Cristian esattamente direttore succede anche questo siamo nel cimitero all'entrata del cimitero di Santa Cristina frazione di Quinto di Treviso dove questa mattina una signora ha avvistato un uomo nudo e ha dato l'allarme è un allarme di fatto in corso i carabinieri con la polizia locale e con Tarina che ha i servizi cimiteriali sono mobilitati per capire di chi si tratta è una segnalazione che ha mobilitato anche la prima cittadina di Quinto Sindaco se mi può raggiungere Stefania Sartori Sartori grazie di essere qui con noi cos'è successo questa mattina allora intanto buongiorno a tutti e grazie a voi per essere qua perché speriamo che con questa eccomediatica magari questa persona si ravveda in quanto venire in un cimitero a dimostrare diciamo così a mostrarsi nudo davanti a persone che comunque sono fragili perché quando si viene in cimitero si ha una condizione particolare e oltretutto davanti a una donna e quindi io la ritengo una violenza contro le donne mi spiace sia successo questo perché devo dire che nei nostri piccoli paesetti siamo abbastanza sereni e tranquilli ma questi episodi ci mettono un po' in allerta e speriamo che le forze dell'ordine che anche se ringrazio per il pronto intervento riescono a identificare questa persona e magari che possa avere una pena giusta e capire e ravedersi del brutto gesto che ha compiuto ecco perché torniamo proprio al fatto è successo più o meno alle 10 questa signora ha visto quest'uomo pare sulla sulla trentina poi è uscito ovviamente sconvolta dal cimitero ha trovato un altro signore e anche lui ha intravisto questo soggetto poi la signora se non sbaglio è andata dalla fiorista dalla fioraia sì dove era appena stata per appunto acquistare i fiori da portare al suo familiare quindi gentilmente loro si sono occupate della signora l'hanno tranquillizzata hanno chiamato le forze dell'ordine che poi hanno fatto chiaramente le loro indagini però purtroppo questa persona si era dileguata nel frattempo quindi adesso aspettiamo se ci sono se riescono a raccogliere ulteriori indizi e appunto a identificare l'autore del fatto ecco come capiamo il fatto è fresco e di questa mattina alle 10 quindi tutto è in evoluzione tutto è in corso non abbiamo altri dettagli su quest'uomo se non che si tratta di un soggetto apparentemente giovane quindi sulla trentina sì questo mi è stato riferito quindi mi sconvolge ancora di più perché questi fatti succedevano tanti anni fa quando io ero piccola e poi non ne ho più sentito e quindi una persona giovane che sicuramente avrà dei problemi quindi mi sento di dire anche questo perché una persona normale non fa queste cose quindi cerchiamo di individuarlo e aiutarlo se sarà il caso a maggior ragione come diceva lei il sindaco all'interno di un cimitero insomma questo va sottolineato forse in questo sta la bruttura di questo episodio esatto proprio questo perché guardate dal primo luglio è Contarina che gestisce il cimitero sia di Santa Cristina che di San Cassiano a Quinto e quando si sono insediati appunto hanno appeso quel cartello che ha una frase bellissima perché noi dobbiamo portare rispetto a questi luoghi e quindi oggi quello è mancato totalmente grazie sindaco non so se riusciamo a inquadrare questo cartello Nicoletta questo è un luogo dedicato alla memoria e non certo a certe nefandezze insomma direttore questo è chiaro ovviamente se ci saranno aggiornamenti ti richiederò la linea ecco Cristian da Santa Cristina di Quinto di Treviso sappiamo che ci hai detto che si tratta di un giovane non c'è non c'è nessun riscontro sulla se si tratti di un italiano di uno straniero perché ricordo altri fatti di migranti nudi per le strade oltretutto uno che è nudo in un cimitero poi o si riveste ed esce vestito oppure circola circola come mamma l'ha fatto anche fuori dal Camposanto no? Assolutamente sì questo prima l'ho chiesto anche al Sindaco Sartori Sindaco non sappiamo se è un italiano uno straniero carnagione e quant'altro insomma questo al momento insomma non si sa non lo sappiamo direi che non fa molta differenza l'atto comunque sia ne fanno per cui chiunque l'abbia compiuto non va punto e chiunque qua nei dintorni abbia visto qualcosa tra l'altro è un po' isolato questo cimitero rispetto al centro non ci sono tante case intorno però se qualcuno ha visto qualcosa assolutamente quindi ecco per questo che io ho ringraziato voi e continuo a farlo perché magari qualcuno può darci un dettaglio una macchina parcheggiata una targa e poi chiaramente le forze dell'ordine sapranno come utilizzare questi indizi questo senza dubbio grazie Sindaco telecamere anche qui in zona non ce ne sono qui in particolare quindi staremo a vedere insomma provvedere anche questo assolutamente sì perché vista la cosa è necessario che ci siano anche le telecamere tra l'altro se ti ricordi direttore qualche tempo fa vi avevamo raccontato dal cimitero di Pederoba di furti continui anche là purtroppo non c'è pace neanche per i campi santi questo appunto torno a ripetere è un ecco è un aspetto molto molto deteriore comunque per il momento davvero è tutto con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea da Santa Cristina grazie grazie molte a Cristina Arboi Nicoletta Rizzetto fondamentalmente ci sono troppi matti in circolazione non ci stanchiamo di ripeterlo pubblicità pubblicità proteste a Vicenza contro l'alta velocità ci dice tutto Carlo Alberto Inghilleri i nottav sono tornati l'ultima protesta esplode in centro storico a Vicenza in piazza della Posta rivendicano la libertà di manifestare e urlano no alle sanzioni tornano dopo il blitz dell'8 luglio quando 200 attivisti arrivati da tutto il Veneto avevano improvvisamente bloccato Ponte Alto paralizzando il traffico con cartelli bandiere e fumogeni avevano appeso un lungo striscione con scritto il TAV blocca la città blocchiamo il TAV per disperderli le forze dell'ordine avevano utilizzato un camion idrante il questore aveva spiegato che il diritto di manifestare è controbilanciato dal dovere di avvertire le autorità competenti chi vuole organizzare qualunque tipo di manifestazione deve notificarlo alla questura almeno tre giorni prima e poi il questore valuterà se autorizzarla così come è stata richiesta se negarla oppure se autorizzarla con delle prescrizioni così erano scattate denunce e sanzioni per organizzazione a partecipazione a manifestazione non autorizzata e per non aver rispettato l'obbligo di sgombero dato dal dirigente di ordine pubblico e la protesta di ieri sera è figlia proprio delle multe ricevute in quel sit-in di Ponte Alto sì, ho preso una multa da 1300 euro e per ora è arrivato una montale di circa 40.000 euro di multe vedremo se ne arriveranno altre insomma in una manifestazione ci si muove si fa un blocco stradale cosa che hanno fatto per migliaia di volte gli operai è di una gravità incredibile contenere il dissenso portando multando le persone con cifre incredibili gli attivisti protestano ma per questa manifestazione hanno chiesto l'autorizzazione e spiegano la loro mobilitazione era ora di rompere una pace sociale dopo le elezioni dopo la campagna elettorale una pace sociale che diceva il comune sta trattando lasciamoli lavorare vediamo cosa succede e dopo si è visto cosa si è portato a casa da tutto ciò molto poco anche la campagna elettorale finisce sotto accusa il TAV è stato uno dei temi centrali nella sfida per la poltrona di sindaco di Vicenza ma gli attivisti hanno molti dubbi che il sindaco fermerà il progetto dubitiamo fortemente che il sindaco avrà la capacità di riuscire in qualche maniera a contenere il progetto decennale dieci anni che verranno sentiti lo ripeto soprattutto da quelle persone che non potranno permettersi dato il loro reddito di uscire dal comune di Vicenza e di andarsene manari a comprarsi una villetta a Creazzo Alto o a Sovizzo Colle Voltiamo pagina e passiamo dai notav alla transumanza è in corso da ieri le mucche che tornano in pianura dopo essere stati in questi mesi sugli alpeggi ci racconta tutto in diretta Alex Iuliano a te Alex direttore buongiorno buongiorno allo studio noi siamo a Gallio con Renzo Rigon che vi mostra le immagini di questa venticinquesima transumanza verticale la più lunga d'Italia radici antichissime un vero e proprio patrimonio culturale quello che si tramanda di generazione in generazione pensate oltre 500 capi quasi 600 capi di bestiame un percorso di 80 chilometri tre giorni di cammino per arrivare a Bressanvido in occasione appunto della grande festa che ci sarà a Bressanvido che coincide poi con altri appuntamenti importanti come il festival dell'agricoltura e a chiusura domenica ci sarà il domenica primo ottobre il grande evento delle porte aperte latterie vicentine in festa con il taglio della forma di formaggio asiago DOP più grande d'Italia ma con noi abbiamo il piacere di avere Marino Pagiusco che è un po' uno dei papà della transumanza perché insomma 25 anni fa questa grande migrazione ha avuto un'evoluzione proprio partendo dalla vostra fattoria sì 25 anni fa abbiamo la transumanza ha sempre esistito non l'ha inventata Pagiusco non l'ha inventata nessuno i vecchi maghesi e purtroppo per motivi che forse qualche anno fa dico parlo di 50 anni fa non c'erano tutti tutte le comodità degli autotrasporti e via scorrendo e tutti facevano la transumanza dopo chi ha smesso di continuare con la tradizione della transumanza e noi assieme a qualche altro malghese che fra qualche giorno forse ne vedrete ancora abbiamo continuiamo a mantenere la tradizione di scaricare la malga facendo la transumanza quindi noi questa mattina siamo partiti da Fosa io ho la malga a Enigo a malga quinto lotto nella piana di Marcesina comune di Enigo per motivi ancora della vaia del 2018 non c'è ancora al massimo la sicurezza in certe strade e quindi le abbiamo trasportate per 7 km e poi siamo partiti ora siamo a Gallio un grosso ringraziamento prima di tutto che siamo partiti da Fosa grandissimo paese grandissimi amici e ringrazio l'amministrazione comunale di Fosa e tutti i cittadini di Fosa per quello che hanno fatto per noi per la transumanza quest'anno e adesso siamo a Gallio grandissimo paese io stesso e tantissimi amici pure a Gallio e guardatevi intorno cosa stiamo vedendo con l'arrivo della transumanza è il peccato del brutto tempo ma comunque ma la pioggia non ferma di certo la passione la tradizione e non ferma voi insomma transumanti noi ringraziamo Marino Pagiusco ci spostiamo se Renzo Rigon ci segue attraversiamo un attimo la strada perché è una tradizione che va mantenuta e che riguarda anche le giovani generazioni e qui abbiamo il papà di Zoe che insomma in sella al suo cavallo questa è una delle prime esperienze insomma è bellissimo vedere anche immagini di una bambina così giovane che già vuole sente percepisce l'importanza della tradizione di questa manifestazione Zoe che emozioni gioia il tuo papà ci ha detto che sei stata tu a voler partecipare alla transumanza sì è vero perché Giovanni che è uno che la fa tutti gli anni e cioè io vado a a cavallo da lui e mi ha parlato della transumanza e allora mi sono innamorata una figlia innamorata dei cavalli innamorata del territorio della tradizione una soddisfazione anche per il papà è una soddisfazione veramente grande ma proprio perché è lei che riesce a trasmetterla a tutto il resto della famiglia e mi ha coinvolto in questa avventura in maniera importante adesso siamo i due cavalieri della famiglia e anche il resto della famiglia è orgogliosa di noi e allora una famiglia di cavalieri qui c'è una grande famiglia che è quella dei malgaisi che è quella di coloro che portano avanti questa tradizione io ricordo prima di restituire la linea allo studio gli appuntamenti insomma di questo grande evento la 25esima edizione appunto della festa della transumanza con il festival dell'agricoltura e sottolineo che insomma questa festa della transumanza di Bressanvido è riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall'UNESCO appuntamento per questi dieci giorni di festa che si concluderanno domenica primo ottobre a Bressanvido festival dell'agricoltura e appunto la grande giornata delle porte aperte con la terie vicentine in festa il momento più significativo sarà come dicevamo il taglio di formaggio asiago della forma di formaggio asiago più grande d'Italia da Gallio con le immagini direttore di Renzo Rigon e di questa straordinaria giornata di entusiasmo di tradizione che la pioggia non ha sicuramente né spento né infiacchito noi restituiamo la linea allo studio grazie grazie molti al mitico Alex Iuliano che ci ha raccontato la transumanza e a Bassano del Grappa c'è la chiamiamola la transumanza di ciclisti e pedoni a causa della chiusura sia pure parziale del Ponte Nuovo e la rabbia dei commercianti che vedono calare i loro affari sentiamo le perdite sono pesanti si va sull'ordine al 30% che è un terzo quindi è molto pesante perdite pesanti per i commercianti ai piedi del Ponte della Vittoria da luglio infatti gli incassi sono precipitati del 30% un'estate che ha visto una chiusura totale del passaggio un blocco non solo del traffico ma come raccontano i numeri anche del commercio oggi un'apertura parziale del Ponte Nuovo che non arresta però l'ormai caduta libera delle vendite causa secondo gli esercenti della zona anche dell'impossibilità di passaggio per ciclisti e pedoni l'unica cosa l'unica cosa che possiamo ritoccare l'unica richiesta che facciamo noi all'amministrazione è quella di ridurre la pressione fiscale locale quindi quello che sono le incombenze locali devono essere ridotte perché i nostri colleghi non ce la fanno per esempio? beh i monetasi sono le due voci che vanno per forza riviste almeno fino alla fine dei lavori e magari anche oltre per poter recuperare quello che è stato il disagio subito una richiesta quella dei commercianti che verrà presto presentata all'amministrazione comunale che prima o meglio nel prossimo consiglio comunale del 26 settembre dovrà fare i conti con due mozioni all'ordine del giorno a sostegno delle imprese pregiudicate dai lavori sul ponte cosa riguarderanno? beh riguarderanno questa problematica esattamente quello che è stato il disagio che hanno subito i colleghi che ruotano attorno all'ex anello del Brenta che prevedeva questa bellissima passeggiata tra Ponte Vecchio e Ponte Nuovo che è stato reciso momentaneamente quindi il calo di fatturato c'è stato e c'è tensione anche per il Ponte Vecchio il tema della mobilità debole finirà in consiglio comunale martedì si preannuncia un'assemblea infuocata sentiamo subito una revisione del progetto del Ponte della Vittoria per poter dare spazio tanto ai pedoni quanto alle biciclette lo chiedono i consiglieri comunali Cunico Campagnolo Vernillo Taras Bertoncello Fontana e Trevisan all'amministrazione Pavan alle prese in questi giorni con il cantiere del Ponte Nuovo il problema è già stato segnalato dagli amanti delle due ruote e dalle associazioni che tutelano la mobilità debole ma in questa fase di lavori diventa indispensabile per la politica cittadina mettere mano al progetto in soldoni il progetto prevede una corsia rialzata rispetto alla carreggiata nella quale pedoni e ciclisti dovranno convivere senza barriere fisiche o una segnaletica orizzontale con tutte le conseguenze del caso per il soave affaccio sulla cartolina più bella di Bassano sia dal punto di vista della fruibilità del ponte per ciclisti e pedoni sia sul versante della sicurezza e così il Ponte Nuovo torna in consiglio comunale nella seduta del 26 settembre che fra Canteri Genius Center e Temi Vari si preannuncia davvero incandescente e sempre del Ponte Nuovo si trattava non del Ponte Vecchio che avevo qui nel titolo allora andiamo in pubblicità e poi torniamo subito state con noi In nuovo in diretta con Focus TG vi abbiamo dato conto poco fa della conclusione degli stati generali dei sindaci del Veneto riuniti a Verona abbiamo sentito il presidente del Lanci Mario Conte intervistato da Lucio Zanatto sentiamo adesso cosa ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia non abbiamo nessuna notizia rispetto ai centri per i rimpatri ripeto è un anello della filiera del tema immigrazione però beh questo dovremmo discutere se va fatto visto considerato che in Veneto a me ad oggi nessuno ha fatto proposte il CPR non risolve il problema degli arrivi questo lo dobbiamo dire per essere corretti nei confronti dei cittadini visto considerato che quest'anno avremo più o meno 140-150 mila persone che dovranno essere rimpatriate e si consideri che mediamente ogni anno l'Italia riesce a far rimpatriare dalle 3500 alle 4000 persone quando va bene il che vuol dire che stiamo affrontando il mare pensando di svuotarlo con un secchio dall'altro la vera partita è una partita di fare in modo che si arresti questo flusso che è un flusso ormai sembra inesorabile inesorabile un esodo biblico e per questo dobbiamo intervenire su tutti i livelli in particolar modo quello europeo oggi l'Europa è totalmente assente quest'anno chiuderemo un bilancio con 200 mila migranti e quindi il doppio dell'anno scorso il che inquieta non poco visto considerato che oggi parlare di dignità dell'ospitalità è un'utopia visti i numeri vista anche l'impossibilità di ospitare servizio di luccio zanato andiamo a Mestre dove da ieri pomeriggio sono tornate le giostre per San Michele c'è una nuova location che è quella dell'area dell'ex mercato orto frutticolo e andranno avanti con le attività di questo Luna Park fino al prossimo primo ottobre vediamo a Mestre tornano le giostre o meglio il grande Luna Park di Mestre lente in occasione del Santo Patrono San Michele 11 giorni di puro divertimento in via Torino all'interno dell'ex mercato orto frutticolo fino al prossimo primo ottobre per l'inaugurazione anche il primo cittadino circondato dai bambini in veste di paggetti San Michele è una festa importante per Mestre e mettere insieme l'organizzazione tra l'altro è di Marghera per cui l'idea è quella sempre di creare unità che poi sarà compreso ovviamente nei festeggiamenti anche che ci sono nelle altre località di Mestre proprio per creare una grande città questa è una grande città dobbiamo prendere consapevolezza evento pensato dal sindaco già dallo scorso giugno che rientra nel palinsesto delle città in festa abbiamo pensato di lavorare su un parco divertimenti che avesse la possibilità di accontentare i più piccoli e sono le prime giostre che si incontrano e anche arrivare a man mano un grado medio e un grado estremo adulti bambini e famiglie potranno divertirsi con giostre concerti musica e un villaggio appositamente allestito con un'area a ristore e mercatini recuperando un'area abbandonata da tempo coincide con un periodo appunto di festa di ricorrenze comunque in realtà c'è tutto un periodo molto più lungo di attività di iniziative poi c'è l'ottobre rosa abbiamo tutta l'attività autunale e semestre però voglio dire che non ci facciamo mancare nulla perché tra l'altro come è stato già annunciato dal 28 settembre al primo ottobre vi è anche il salone dell'alto artigianato artistico all'arsenale di Veneto con vela il grande evento organizzato anche dall'associazione Eventi 2000 Stiamo cercando di essere presenti in tutti i modi ovviamente per cercare il più possibile di dare un supporto a quello che possono essere le famiglie il territorio ai commercianti come vedete con tutte queste attrazioni Adesso andiamo a Treviso per l'inaugurazione del restauro di una casa importante vediamo Un percorso tra fede e poesia questo l'itinerario che da oggi ognuno di noi può percorrere all'interno del parco Zanzotto Ariese 14 punti di questo percorso suddiviso in 12 legie e due postazioni dove soffermarsi negli scritti di 5 autori tratti dall'antologia di poesie religiose frutto del concorso letterario ideato dal comune di Campo San Piero un itinerario tra fede e cultura e natura ispirato all'opera di padre Turoldo che anche oggi nel corso della cerimonia di inaugurazione è stato indicato come testimone di quella fede scandita dalle parole del cuore la stessa richiamata dal vescovo di Treviso un signor Michele Tomasi per la riapertura della casa museo di Papa Sarto il pontificio trevigiano carico di quell'umiltà e concretezza che l'ha condotto dall'altare parrocchiale fino a San Pietro un percorso scandito nelle teche del museo che immerge il visitatore nella straordinaria vita terrena di Pio X contornata da quell'atmosfera che solo il passaggio tra le stanze di Casa Sarto riesce a creare un riallestimento che ha completamente trasformato il complesso di Casa Pio X il museo e Casa Magion che accoglie il bookshop e la sede della fondazione è stato un intervento rispettoso dell'esistente e che intende raccontare la figura di Pio X attraverso gli spazi e gli oggetti a lui appartenuti un viaggio nella vita e nella fede di Giuseppe Sarto nel segno del ricordo che tocca il cuore ricordare significa rimettere nel cuore ciò che abbiamo vissuto e ciò che hanno vissuto quelli prima di noi ed è l'unico modo per andare verso il futuro verso la speranza e avere delle radici da ricordare e qui in questa casa che è la casa di un papa di un santo e nasce qui le grandi persone non sono grandi perché vivono in palazzi grandi ma perché hanno una grandezza dentro che è l'amore e che lo vivono senza condizioni Vizio di Lucio Zanatto da Riese Pio X è un calendario ricco di appuntamenti quello proposto a Treviso dal centro di produzione teatrale Alcuni vediamo si parte con la rassegna Satire Invece che porta in scena alcuni dei grandi nomi della commedia teatrale italiana come Lella Costa che recita una rivisitazione di Pinocchio di Collodi durante la serata di apertura del 12 ottobre non mancano le proposte rivolte alle scuole a partire dall'infanzia fino alle secondarie di secondo grado con spettacoli messi in scena settimanalmente da ottobre fino a maggio 2024 il calendario è ricco? non è molto ricco io però visto che abbiamo tempo anche citare qualche titolo le quattro stagioni è una produzione di gruppo Alcuni in cui ci sono sei musicisti che suonano queste bellissime quattro stagioni però ambientate in un circo un spettacolo che debutta a gennaio al nostro teatro e poi gira per il mondo gli appuntamenti coinvolgono anche le famiglie con una serie di spettacoli al teatro Sant'Anna ogni domenica pomeriggio parte ad ottobre e poi finisce ad aprile perché poi voi sapete perché siamo qua al parco perché abbiamo appena finito la stagione estiva e poi torneremo la prossima estate ancora qui al parco degli altri diciamo che settembre ottobre sono mesi ricchi ricchi tra l'altro Francesco i fratelli Francesco e Sergio Manfio che tra l'altro hanno vinto Sergio Manfio ha vinto il Best Director che è un titolo importante con Leo Da Vinci un cartone animato che ha fatto furore in tutto il mondo alla New York Animation Film Award quindi tre vigiani che danno lustro al nostro al nostro territorio alla nostra economia grazie a tutti per per averci seguito grazie ovviamente anche a Tony Esposito e Andrea Basso in regia ci vediamo stasera a Focus buona giornata grazie a tutti